Dalle favole lette da Leo Gullotta alla Commedia Nera degli Servo, con due appuntamenti di altissimo livello il Napoli Teatro Festival si avvia all'ultima tre giorni di programmazione dell'edizione 2016. Primo in scena nel pomeriggio al madre l'attore siciliano, beniamino del pubblico di cinema e teatro. Accompagnato dall'orchestrina musica da ripostiglio, Gullotta ha letto diversi passaggi di varie favole, ripercorrendo viaggi in luoghi incantati, maghi, rivalità tra fratelli, orchi, trucchi, magie e animali dagli strani poteri. Con lui si è chiuso il percorso Una favola in Campania, progetto di Marco Balsamo per la regia di Fabrizio Arcuri. In serata poi, in primo assoluto al Teatro San Ferdinando, è stato messo in scena Il Servo di Robin Maugam per la regia di Andrea Renzi e per Paolo Sepe, una commedia nera di cui si ricorda la celebre versione cinematografica di Joseph Lose negli anni 60 che fa dello scavo psicologico dei personaggi la chiave di lettura, mentre la trama, ambientata all'interno di una casa, crea una ragnatela subdola lentamente tessuta dal servo. Si avvia dunque a conclusione la rassegna che anche per quest'anno ha incantato migliaia di persone, arricchito culturalmente la città e portato l'arte del teatro nei cuori di tanti napoletani.